È stato un po' un segno del destino il fatto che nella partita udinese a Juventus la rete della vittoria del subentrato Cristiano Ronaldo che aveva dato la vittoria nella prima ricampionata a Juventus sia stata annullata proprio previo l'intervento Varra che tante volte in passato ha dato ragione alla Juventus. È stato un po' così un'immagine finale di un epilogo che stava per consumarsi di quello che è un grande giocatore indiscutibilmente che è stato tante volte decisivo e che però gli è mancato quel qualche cosa per lasciare veramente il segno. Come sapete Cristiano Ronaldo è passato al Manchester United pare tra l'altro che il saluto con la squadra sia stato anche abbastanza freddo non è che ci sia stato che fossero entusiasti i suoi diciamo compagni di questa sua decisione. Passato si parlava molto del Manchester City mentre invece Ronaldo è tornato diciamo anche un po' a sorpresa allo United. Io magari mi sarei aspettato di più un passaggio al PSG così per fare un Dream Team con Messi e Bappé andrà al Madrid ma potrebbe arrivare altra gente altrettanto forte potrebbe arrivare addirittura a Olanda il forte norvegese Olanda secondo quello che stavano dicendo oggi a Radio 1. E' quello è veramente un bel giocatore Olanda è una forza della natura un giocatore proprio che mi piacerebbe veramente vedere giocare in campionati cioè in squadre di primo livello per capire qual è davvero il suo valore. Quindi Ronaldo nei suoi messaggi di avvio cosa ha detto? Noi abbiamo fatto grandi cose alla Juventus stavo sempre uno di voi però non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Credo che sia la sintesi no di vogliamo dire di un fallimento lo vogliamo dire la sintesi di un fallimento Ronaldo è stato preso non è stato preso per vincere lo scudetto Ronaldo è stato preso per vincere la Champions. Dov'è che si è creato una sorta di attrito tra l'altro costato tantissimo Ronaldo come sapete stipendio altissimo cioè che Ronaldo diceva sì io ci vengo a Torino per vincere la Champions però fate per voi una squadra per vincere la Champions perché non è che la posso vincere da solo io le dico per quanto possa essere forte per quanto mi posso impegnare. Questo apporto la Juventus non ha dato a Ronaldo perché la squadra anche di quest'anno noi la andiamo ad esaminare. Adesso lasciate perdere gli erroracci per esempio di Wojciech Cerni nel primo turno del campionato che ha regalato letteralmente due reti ai friulani questo è stato un cato sappiamo che Cerni è un ottimo portiere ma complessivamente questa squadra che quest'anno tra l'altro ha il vantaggio del recupero totale di un grande giocatore come Paolino Di Bala però si è persa in troppi equivoci quindi Rabiot, Rabiot, Ramsey, McKennie questi non sono giocatori per vincere la Champions League è molto evidente l'anno scorso Pirlo mi ricordo all'inizio stagione ha insistito tanto per esempio sul giovane Frabotta ci sono stati degli equivoci cioè una squadra che deve vincere la Champions League deve avere delle caratteristiche ben precise in ogni zona del campo non ci si può affidare a un singolo perché neanche Messi vince le Champions da solo Messi vince in un grande Barcellona che gioca in una certa maniera quindi io credo che la Juve con Ronaldo abbia fatto un po' come quello che vuole fare per parlare chiaro lo sborone come si dice a Roma che prende magari la Ferrari con l'impianto a gas per far vedere che c'è la Ferrari che è un uomo di successo eccetera e poi tutto sommato sta Ferrari non c'ha i soldi per pagare l'assicurazione ecco per dire oppure ogni volta che paccheggia da una botta perché non è proprio un abile pilota diciamo e quindi non si potrebbe permettere un'auto di costosa ecco quello che mi ha dato un po' l'impressione la Juventus che esce male poi alla fine da questa storia una Juventus che è in difficoltà economiche lo sappiamo tutti ricorderete anche la vicenda della Superlega dell'anno scorso che cercano di guadagnare di più perché hanno accumulato un passivo in quanto chiaramente col Covid hanno perso una valanga di introiti ma è logico no? più le società erano grandi più alti hanno i loro monti in gaggi le loro spese di gestione e più hanno sofferto dal Covid perché meno soldi cioè è stato più alto diciamo l'importo del mancato guadagno di ogni singolo incasso queste sono squadre che hanno perso miliardi cioè milioni di euro ogni partita che giocavano in casa quando comincia a passare un anno e mezzo in queste condizioni si crea un problema lo vediamo dal calcio mercato che è stato fatto quest'anno un calcio mercato che definire asfittico è dire poco se noi escludiamo il Genoa che ha cambiato praticamente 10 giocatori secondo me ha fatto un gran casino come si è già visto nella casa di esodio contro l'Inter le altre squadre hanno cambiato pochissimo la Roma che ha preso Rui Patricio Vigna e in extremis Abram adesso speriamo che arrivi in centrocampista ha fatto in questo contesto un ottimo calcio mercato un calcio mercato da 7 pieno soprattutto dopo aver visto Rui Patricio all'opera ieri nella gara di ritorno dei playoff della Conference League che sembra un ottimo portiere il Napoli non ha preso praticamente nessuno il Napoli si ha preso Juan Jesus cioè una squadra come il Napoli che l'anno scorso è arrivata a quinta buttando via la qualificazione della Champions League nell'ultimo turno camolosamente fermata in casa dal Verona di Juric una partita che io non lo so mi farò sempre tante domande su questa partita fu secondo me un risultato inspiegabile ma senza voler insinuare niente proprio io parlo di come si può sbagliare l'approccio a una partita così importante non me lo spiego proprio non me lo spiego quindi tornando alla situazione Juve la Juve io immagino questo scenario cioè un Ronaldo che prende i dirigenti e gli dice senti un po' io mi chiamo Cristiano Ronaldo sono uno dei più forti giocatori del mondo guadagno quello che guadagno però io mi faccio sempre un culo così dalla mattina alla sera per essere sempre al top anche se gli anni passano do tutto penso di meritarmi i soldi che guadagno ho segnato oltre 100 gol in 130 partite uno sfacello di gol numericamente a Ronaldo non gli si può dire niente ha segnato tantissimo datemi una squadra datemi una squadra che possa essere all'altezza di quello che sono le mie possibilità e quelli gli avevano praticamente fatto capire qua più di tanto in questo momento non si può fare se non ci sta bene quella è la posta così spammiamo anche una barca di soldi guadagno non mi ricordo adesso ma è una cifra spaventosa si fanno dare anche 20-30 milioni per il cartellino e quindi risparmiano 50 da una parte 30-20-30 si li mettono in tasca e fanno quadrare un po' i conti questo è lo scenario che io intuisco quello che avalla il mio discorso è che cosa? che i nomi che girano per sostituire un giocatore del livello di Ronaldo che ripeto è tornato a Manchester i nomi che girano sono quelli di Moise Kean dal PSG e addirittura di Scamacca un prodotto del vivario della Roma che sta giocando al Sassuolo che proprio ieri è stato convocato dalla nazionale maggiore di Roberto Mancini che deve giocare tre gare adesso in qualificazione ai mondiali in Qatar tentando di stabilire il record del mondo di vittorie consecutive che appartiene alla Spagna con 35 vittorie consecutive mi pare dal 2007 al 2009 se ricordo bene la Spagna ha stabilito questo record 35 gare senza sconfitte l'Italia ha 34 credo che la prima partita se ricordo bene è con la Svizzera quindi partita non facile e possiamo ugualiare la Spagna poi superarla con la Bulgaria e poi c'è una partita più facile con la Lituania o la Lettonia adesso in questo momento ho un vuoto di memoria o Lituania o Lettonia e quindi ragazzi il primo record del mondo di gare senza sconfitte sarebbe una grande cosa per una nazionale che ha appena vinto un campionato europeo quindi dicevo i nomi sono Scamacca Moise Kean quindi è vero che c'è Morata e Dybala però insomma è chiaro che va via Ronaldo uno si aspetterebbe un nome un po' più altisonante dal punto di vista tecnico oppure questo è quello molto interessante qual è stato l'apporto di Cristiano Ronaldo alla Juve Cristiano Ronaldo è andato sicuramente molto bene ripeto da solo ripeto non vince le Champions League ma neanche l'Europa League vince da solo si è messo in luce è un Cristiano Ronaldo molto diverso dal Cristiano Ronaldo giovane con i suoi dribbio ubriacanti finte contro finte giochi di gambe continui sulla fascia è un Cristiano Ronaldo per esempio che ha affinato le sue capacità nel gioco aereo e sulle palle alte devo dire che ha realizzato dei gol bellissimi memorabile quello che si è assegnato l'anno scorso mi pare che fosse a Genova con la Sampdoria dove ha raggiunto veramente un'altezza impressionante ha segnato questi bellissimi gol di testa ha sempre segnato molto bene anche i calci di rigore io questi gol di straordinaria fattura non me li ricordo sinceramente stavo stato forse distratto ma ha segnato tanto ha fatto i gol che doveva fare inspiegabile è il fatto che lui in Spagna segnava tutti questi gol sul calcio di punizione mentre in Italia no questa è una cosa misteriosa perché lui li tirava anche poi di potenza questi calci di punizione perché se punizioni in Spagna spesso finivano alle spalle dei portieri e in Italia no è un mistero della fede una cosa inspiegabile Ronaldo non è assolutamente risultato uno specialista sui calci piazzati in Italia quindi molto curiosa questa cosa in Champions in Europa ha fatto sempre si è sempre impegnato molto ripeto un grande posizionista certamente un personaggio così alla lunga io credo che dentro uno spogliatoio per quanto gli vuoi bene qualche problemino lo crea mi sento che lui è un grandissimo narcisista lo sappiamo tutti benissimo è più un uomo immagine con Mike un calciatore un po' diciamo un po' quello che era anche se vi ricordate Beckham che ormai è diventato più un fotomodello un personaggio da copertine patinate soprattutto dopo che si era messo con la Spice Girl che è un calciatore che è un calciatore anche molto forte Ronaldo secondo me si è un po' perso nella ricerca di una perfezione estetica formale d'apparenza è un giocatore che a volte in campo quando ha la palla tra i piedi sembra quasi che si specchia ecco si sistema i capelli beato lui che ce l'ha poi si specchia sto bene mi devo togliere un po' la barbetta qui e poi parte in dribb mi dà questa impressione qua quindi io non so fino a che punto in un gruppo dove c'è tanta gente che tira la carretta poi alla lunga se questo atteggiamento piace però non sappiamo come si comporta poi nello spogliatoio magari nello spogliatoio è invece una persona molto alla mano eccetera comunque giocatore molto orgoglioso molto egocentrico un po' spocchioso diciamo le sue qualità tecniche non sono in discussione in ogni caso credo che la sua partenza per la Juve segnerà un momento di ridimensionamento ulteriore dopo quello che già c'era stato l'anno scorso quando la squadra è stata inspiegabilmente tolta a un allenatore che aveva vinto lo scudetto Maurizio Sarri è affidata a uno che non aveva mai allenato e per quanto bravo sia Piero sicuramente qualche responsabilità ce l'ha nella cattiva annata dell'anno scorso dove la Juve solo nell'ultimo turno ha conquistato la qualificazione alla Champions in modo a dir poco lo gambolesco proprio per effetto dell'incredibile scivolone del Napoli che non è riuscito a battere il Verona se il Napoli avesse battuto il Verona la Juve quest'anno sarebbe anche fuori dalla Champions League quindi io comunque penso che perde il campionato italiano che perde un personaggio al di là di tutto è un personaggio riconoscibile in tutto il mondo in buona sostanza la Juve quest'anno venderà un sacco le magliette in meno in giro per il mondo ecco questo è il discorso venderà un sacco di gadget in meno perché non è che Scamacca o Morata hanno lo stesso appilla di un Cristiano Ronaldo e mi sembra il segno di un ridimensionamento che dopo tutti questi scudetti vinti era fisiologico io lo dicevo sempre si stanno vincendo 7, 8, 9 campionati ma a un certo punto ne vinceranno 10, 11 ma poi ci sarà la fine di un ciclo bisogna ricominciare da capo noi poi vince 30 campionati di fila e 30 compitati di fila e così è stato quindi però pensiamo a chi sono oggi i grandi personaggi di questo campionato avendo perso anche un grande personaggio come Lukaku che è andato a Chelsea perdere in un'unica sessione di calciomeccato sia Ronaldo che Lukaku che ha un chiaro segnale di involuzione guarda caso questi grandi giocatori vanno tutti in premia che ormai è diventato il campionato più interessante che va per la maggiore dove i campioni vanno lì l'eccezione è il PSG l'eccezione è Real Madrid il Baccellona ormai è in crisi ma alla fine vanno tutti in premia per cui temo che dovremo un po' prepararci a un ridimensionamento oggi chi sono i campioni di questo campionato chi sono i grandi protagonisti Ibrahimovic ha 40 anni è abbastanza preoccupante questa cosa non lo so non vedo questi grandi talenti questi straordinari talenti del livello dei giocatori che ho menzionato poc'anzi che sono andati in premia per cui è arrivato Abram alla Roma speriamo che faccia molto bene ma è un ragazzo ancora molto giovane non lo conosciamo anche nemmeno fino in fondo non sono giocatori che si possono paragonare a Cristiano Ronaldo quindi sono vagamente un po' preoccupato perché ho l'impressione che l'effetto pandemia sui conti delle società porterà nei prossimi anni a un certo ridimensionamento speriamo bene speriamo che il ritorno del pubblico negli stati possa riportare l'infa e soldi incontanti per parlare chiaro nelle casse delle società perché così il campionato italiano possa lentamente e molto lentamente ritornare ai fasti di un tempo perché c'è stato un periodo anche nel primo anno del 90 che il campionato italiano era un signor campionato buonanotte a tutti continuate a seguirmi e iscrivetevi al canale e iscrivetevi al canale